Non lo fare. Cosa? Non lo fare. Ma cosa? So cosa stai facendo, non farlo. Non sto facendo niente. So cosa stai facendo. Non sto facendo niente. Stammi a sentire. Sai che cosa succede se scoprono che tu sei quella parola con la P? Siamo circondati da assassini stupradori che bevono la vodka dai cessi. Dobbiamo convincerli che non sei un poliziotto. Niet polizia. Niet polizia. Ragazzi, niet polizia. Non è un poliziotto. Quest'uomo non è un poliziotto. Capito? Ficcatevelo bene in quelle zucche vuote. Un profiler. È dell'FBI. Che ha sempre a che fare con le forze dell'ordine. Ma non è un poliziotto. Sembra la stessa cosa ma non lo è. È complicato spiegarlo. Lui è solo il mio buon amico agente speciale John Hartley che accogliamo tra noi con un bel applauso. È tutto, grazie. Non credo mi abbiano sentito. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Non penso che... Sì. Grande drago sta venendo qui. Mi raccomando, non mettermi in imbarazzo. Salve, signore. Polizia. Tu morto. Ok, lui lo sa. Sa che sei un poliziotto. Festa finita. Tranquillo. Tieni. Puoi prendere il mio. È nutriente. Dovresti alzarti, stai facendo la figura della femminuccia. Ora, te lo dico da amico. Ok, senti. Evitiamo la solita rissa tra detenuti. Stai andando forte, sono con te. Quindi, per favore, niente lotta. Torniamo a sedere e finiamo di mangiare. No! 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 Grazie a tutti